ciao amici auguri buon anno a tutti come vi avevo anticipato in questo video sui miei top 12 consigli del 2018 oggi per festeggiare con voi il 2019 appena iniziato ci facciamo quattro risate insieme una sana risata è la migliore medicina naturale anzi è la più efficace senza il buon umore tutto il resto fa fatica a funzionare e per tirarci su il morale ci aiuta la star la vera star del canale aspetta una volta per tutte vuoi raccontarci cosa ci fa uno squaletto in un canale di salute benessere stile di vita ma certo che ve lo racconto è iniziato tutto per caso come nelle migliori storie un paio di anni fa dovevo fare una delle mie mitiche scenette quelle dove io mi diverto come una matta e voi mi dite di amare tanto avevo bisogno di un autista per fare una gita fuori porta in una vecchia 500 tutto in video ovviamente mi serviva un pupazzo per il volante che guidasse e l'unico disponibile e della misura giusta era lui squaletto e così è iniziato un po per gioco un po per ridere e poi per rendere più divertenti gli argomenti della salute naturale che sono così importanti la cosa bella è che con squaletto i miei video sono diventati interessanti anche per i più piccoli che mi hanno raccontato tante mamme ascoltano imparano mettono in pratica e vanno a fare la predica alle nonne e nonni comunque non avrei mai immaginato quello che è successo squaletto nei commenti ha sempre un successo straordinario quasi più di me ormai è diventato parte del canale sì sì è diventato anzi la star del canale quando non c'è mi chiedete sempre ma dov'è finito perché lui ha la sua folta schiera di ammiratrici anche nei messaggi e nelle mail mi mandate sempre saluti speciali per squaletto e io glieli giro e vi assicuro bene adesso è il momento della top 10 di squaletto con le sue apparizioni migliori di sempre dateci dentro con i mi piace di incoraggiamento lui li apprezza molto ci tiene anche se non lo fa vedere squaletto anni 50 squaletto bay watch questo è un quiz è di colore rosso e fa subito estate cos'è? è squaletto bay watch? squaletto avvocato squaletto massaggiatore oh no ma da quanti massaggiatori devo andare adesso squaletto rapper si adoro le classifiche parli dei singoli più venduti? squaletto capo ufficio squaletto rastafari eh eh noi un'idea ce l'abbiamo squaletto ambrogio? ambrogio avrei un leggero languorino no non voglio fermarmi al mac focus la mia è più voglia di qualcosa di buono insomma ambrogio ma quanto ci hai messo per fare benzina? io sento sempre quel certo languorino grazie ambrogio pensi sempre a tutto squaletto al ristorante squaletto al mare squaletto al mare grazie a tutti grazie ai città ahhhh ahhh Come dici? E ce ne sono tante altre, per vederle tutte basta andare sul canale e guardare tutti i video, che tra l'altro sono ricchi di consigli utilissimi e sono più di mille! Grazie squaletto di farci ridere e anche riflettere su argomenti importanti. E grazie a voi amici per un anno splendido passato insieme e per un anno ancora migliore che inizia oggi. Buon 2019 di salute e felicità per voi e i vostri cari. Auguri da tutti noi, vero? Nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao!